musica salve tutti i ragazzi ancora una volta bentornati sul canale di LeonTrip e bentornati in un nuovo episodio di SEVEN DAY TO DIE THE SURVIVAL OR CRAFTING GAMES ehm e ci siamo? quindi siamo su SEVEN DAY TO DIE e là vedo già uno zombaccio attenzione momento eh ma io non ho tanti colpi di questo cosa metti l'arco grazie te lo zombaccio lo zombaccio non lo vedo momento che c'ho sempre il solito problema di ste cuffie ok eccolo qua boom boh tanta roba abbiamo preso allora io sto cercando di andare verso questa direzione qua quindi nord ovest vai là c'è un altro zombaccio attenzione ragazzi vai boom 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 ok ehm tu cos'hai? non hai niente? bene allora ah qua ci sono delle macchine ragazzi io potrei anche smontare le macchine volendo come sono messo con l'inventario scusate ah cacchio sono pieno mmm non male allora questo lo buttiamo via questo lo buttiamo via lancio anche il battery bank sento camminare sento camminare sento camminare voglio smontare le macchine ma sento camminare eccolo qua vada boom porca caccia la miseria ragazzi con l'arco sto diventando veramente overpowered eeeh no non mi interessano per adesso perchè voglio smontare le macchine ragazzi sono arrivato qua per smontare le macchine e le macchine le smontiamo lì c'è un martello in realtà boh cosa facciamolo? prendiamo il martello ma si prendi il martello si sa mai che cosa può sempre tornare utile vediamo se becchiamo il motore eeeh in realtà forse si cascan spring cascan no perchè vedete lascia giù un sacco di roba quindi dobbiamo cercare il modo di liberarci un po' l'inventario allora eeeh va bene proiettili no perchè tanto credo di poterli fare polvere da sparo no la faccio eeeh boh 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 un po' di smallstone non me ne frega niente collect spring gascan eeeh gascan 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 ok questo cos'è? il mio backpack ok avanti e siamo ancora pieni però giusto? eh si quindi boh non saprei neanche cosa buttare giù ragazzi mmm le piume via tanto le piume ce ne ho a bomba ok e che cavolo mi ha dato scusate questo vorrei il motore se è possibile vabbè spero spero le painkiller oh ok le painkiller me le devo prendere perchè tanto quelle si staccano engine no questo qua è dropped no aha va bene qua il motore non me lo da siamo di nuovo pieni bene e io non so che cavolo buttare giù io buttare giù boh le bottigliette vuote no ste bacche qua snowberry chi se ne frega buttele via ok salve ok ah ma è un cowboy cowboy ah si è un cowboy cowboy non c'è più bene no no voglio andare verso il bioma innevato dicevo che io volevo andare verso sud ovest no veramente era nord ovest ok vabbè intanto che ci sono vado verso l'airdrop ragazzi scusate che voglio andare a vedere se riesco a risolvere questo problema di lag ok vediamo se va meglio beh non molto in realtà e mia ragazzi se è pesante sto gioco io non non riesco a capire perché c'è qua il piume no 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 il piume no ah abbiamo trovato tipo lo stadio di cui mi parlavate ecco vedete credo eh no è peggio così in momento ragazzi ok ragazzi ho provato a ricaricare il gioco e no non è che migliori tanto eh va bene proviamo ad andare verso no non migliora per niente proviamo ad andare verso quando carica le texture vedete fa sti cacchio di micro lag poi una volta che le ha caricate in teoria ma com'è fatto a prendermi ok via 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 proviamo ad andare a vedere dentro sto cosa dovrebbe essere tipo lo stadio vedete c'è uno stadio là annaccia ragazzi allora urge risolvere il problema di componentistica del pc per registrare se vende di tu dai allora proviamo ad andare dentro coliseum è chiusa no piccone ok scream eh ok ho alzato la lunghezza del giorno no ah ma questo è un giocatore di football oh oh corre questo momento no 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 e gli zombie non corrono io ho messo che gli zombie non corrono eh cazzo aiuto che cacchio aiuto no vai al coso di oh ma com'è c'è l'alert ho dimenticato di togliere l'alerta da un nuovo iscritto ciao iscritto chi è? muhammed muhammed k va bene grazie per esserti iscritto al canale stavo registrando un video è partito l'alert e ci muoio quindi niente grazie eh si ho capito ma non muore quel deficiente lì che cacchio ci devo fare io ragazzi tra l'altro ho anche le notifiche degli iscritti momento che tolgo queste cacchio di notifiche non vedo un tubo sennò allora ok 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 pure l'uccellaccio cioè guardate qua non metti l'arco che è lontano adesso ma aspetta stupido accoso ora se rompe i coglioni ragazzi vado dentro vado dentro perché dentro è sicuro dentro mi sembra molto più sicuro questo non va giù oh ci sei andato giù no no non è vero cattarola devo andare dentro curarmi porcaccia la miseria vabbè uso un kit basta abbiamo finito non è vero ora sei insistente ma quante cavolo di frecce gli ho tirato questo ok posso anche uscire adesso no questo non c'è niente dove era giocatore di football tanto atteso aiuto eccolo qua no c'è un casco addio non lo posso tirare giusto deficiente ma non è facile con l'arco pigliarlo vabbè addio allora ragazzi questo qua è un altro giocatore di football no cacchio c'è un giocatore di football buggato credo eh no devi stare giù 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 cosa mi dai ah lo schema per costruire l'arco composito fantastico eeeh andiamo alle casse ragazzi che ne so metti sto cacchio di coso ancora 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 cacchiarola dammi l'arco dammi l'arco dammi l'arco che non ho più colpi muorici ok 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 no vai pure al coso lì che è allo stadio che tranquillo è bello sto cacchio ah grazie ragazzi per avermi fatto venire qui a morire oddio ci morerò sicuramente qua eeeh porca la miseria qua stanno spaccando tutto stanno spaccando tutto stanno spaccando tutto me lo sento che stanno spaccando tutto guardate là ce n'è una lì una lì un ciccione che sta entrando un'infermierina un'altra cicciona marca miseria si provateci voi a sopravvivere qua ragazzi io io non ce la faccio ancora ma quante cazzarola si vabbè finisco i colpi così eh cioè non è che dai fattene ok acqua va benissimo acqua va benissimo acqua oh me lo sento dietro dammi l'acqua dove cavolo era eeeh bovutla qua cazzarola pure la cheerleader nooo vattene 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 no oh ce ne sono ancora eh ah questi devono essere clienti che stanno andando a vedere la partita e io li sbaglio ok non c'ho un tubo posso per favore cominciare ad esplorare sto posto? sono dei soldi ce li prendiamo ancora non c'è niente no ah soldi eeeh però che culo ah tutti vuoti bene si ragazzi tutti vuoti però utile venire qua eeeh no c'è un tubo non c'è adesso facciamo casino atterriamo il mondo ci sono un sacco ho una chiave inglese ho un cavolo salve ho un piccone e non ho paura di usarlo eh ho un arco e lo userò ok va bene eeeh ragazzi io qua non vedo niente cioè cibo magari sarebbe utile no c'è tutto c'è c'è l'immondizia cioè siamo venuti qua a trovare l'immondizia beh 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 ci sono un po' di soldi possiamo scambiarli col trader però eeeh qua fuori ci sarà il disastro infatti là c'è già un'incazzata nera ok momento 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 ragazzi momento andiamo fuori di qui perché sempre notte poi ah tra l'altro ho alzato eh la durata dei giorni li ho fatti più lunghi quindi adesso la notte durerà di più ovviamente però anche il giorno durerà di più eeeh non si può andare di là ok se io vado di qua e andassi qua no 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 scherzavo ma che state fuori no 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 corriamo per il campo giocatore e il suo e il suo habitat giusto? ma cazzo ma io ho altre frecce no non ho altre frecce sono morto cratarsi le frecce è impossibile ho buttato via le piume anche bel lavoro buttare via le piume eh eh merda che faccio? me la fugo? ma perchè non c'è un tubo? merda non c'è niente ragazzi qua non c'è niente sono affamato anche non c'è niente da mangiare ho una pistola però posso mettere al posto dell'smg la pistola? sta pistola è carica? si 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 vermi tutti è carica sta pistola no questo lo posso anche lasciare mi serve quello che corre dove sei? fermo fermo dove cavolo è andato adesso? ma lì sta spaccando tutto ma dove cavolo si entra? sei rientrato qua? ma non si rientra lì ok porca miseria ragazzi con la pistola sono più forte che con l'arco ok questa roba no cazzo le cheerleader qua dentro no questo qua è il posto della telecronaca non ci sono cheerleader qua le cheerleader nel campo due con un colpo no porca cazzo la miseria peccato sarebbe stato bello vada vada questo qua c'è delle scarpette altre scarpette erano le fan delle scarpette va bene allora che cosa facciamo ragazzi? qua ci sarà qualcosa non c'è un tubo non c'è niente ma cosa cazzo? vado a tirare giù questa che cacchio ne so qua ci sono delle parti inutili praticamente dello shotgun non c'è un tubo non c'è ragazzi una parte per la pistola qua non c'è niente qui scusi lei? no lei c'ha sempre le scarpe non c'è niente ragazzi delle parti per adesso comunque è venuto il giorno e venne il giorno no quella lì è lì che sta aspettando di rialzarsi quindi eviterei ok allora mi serve in teoria cosa è stata sta luce? corn seed io me li prendo magari perché ho intenzione di farci l'orto però qua fare l'orto non è esattamente in realtà invece si potrebbe anche fare però qua ho ah avete visto? qua uno potrebbe vedete che c'è già il muretto qua con le vabbè che c'è sta rete qua che reggerà tipo 5 secondi però se uno volesse potrebbe recintare tutto qua rinforzare tutto con il concrete e chiudere qua chiudi qua e tutti i fortifichi che tutta quest'area è qua fuori qua ci puoi fare l'orto il problema sarà l'acqua ce la devi portare però il progetto di acqua io berrei qualcosa però si non sarebbe male però ragazzi farlo è un cioè richiederà giorni di lavoro quindi non starei lì tanto a devo mangiare qualcosa ragazzi quindi niente va bene allora abbiamo esplorato anche lo stadio credo che non ci sia più niente da esplorare ragazzi vado a fare proprio un giro veloce ma non credo momento no 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 adesso no e vediamo un po' ah no qua c'è un gabbiotto da esplorare ma qua entra sempre un mucchio di guardate quanti cacchio di gente che entra qua tu non mi scavalchi qua vero giusto sì e invece mi scavalchi e come? porca caccia la miseria questo fa il giro riesco riesco da ammazzarlo per favore prima che vengano le 7 di mattina dai giù merda dai dai e abbiamo finito tutto ragazzi quindi adesso o andiamo via o ce ne andiamo cosa c'è? ma no c'è il cesso qua ma che cacchio te lo dico a fare merda no magari qualcuno ha nascosto la pistola nel cesso no non ha nascosto la pistola nel cesso uh questo è cibo hit hit si è tipo cibo per i pesci una cosa così no si è perso forse sono pesche non saprei niente il nulla cosmico qua mamma mia ragazzi va bene ok ce ne andiamo e di la cos'è? altri bagni sicuramente no non ho mica finito di esplorare però gli altri bagni vaffanculo qua c'è away lockers non mi direi che si è alzato vero? no no non si è alzato invece si vabbè ragazzi gli away lockers questo si è incazzato con gli away lockers quindi ci vediamo alla prossima episodio di 7 day to die io adesso vedrò di tornare a casa morendo e niente ci vediamo al prossimo episodio perché qui ho visto che non ci vengo a fare niente e niente giusto? allora sapete cosa vi dico? io nel prossimo episodio proverei ad andare ad esplorare grazie c'è il motore qua dentro no c'è il filtri quell'edificio là che non so cosa sia ah non so cosa sia neanche questo di fronte in realtà credo che siano tipo appartamenti o una roba del genere navzone survival non saprei quindi ho quell'edificio lì ah là c'è anche cos'è un negozio quello là ah lì c'è la stazione di polizia no stazione di polizia leone stazione di polizia no ragazzi stazione di polizia ha vinto questo cos'è? maiale allora se questo è un negozio ce lo esploriamo altrimenti no però credo di sì beh in realtà è un negozio però ci sarà pieno dei schifi mmm vedete raggiù questo c'è del fertilizzante uuuu noi cani ok ragazzi vi saluto vi do appuntamento al prossimo episodio ehm fatemi sapere la vostra sul su seven day to die e iscriviti al canale se non siete ancora iscritti ricordatevi di condividere il video se mi volete aiutare e noi ci vediamo al prossimo episodio ragazzi io tornerò a casa perché sono un po' nella merda qua grazie ciao a tutti ciao 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 ciao